Sorpresa ad Ortona, al ballottaggio due esponenti della società civile appoggiati da liste civiche. Leo Castiglione è un grande risultato, se l'aspettava innanzitutto? In questi termini no, sicuramente mi aspettavo una risposta decisa da parte della città perché ho iniziato un nuovo percorso civico da quando sono uscito in Consiglio Comunale dalla coalizione di cui facevo parte e quindi di questa entità sinceramente no. Probabilmente il programma, la nostra campagna elettorale è stata molto condivisa dalla cittadinanza e quindi i risultati poi vengono. Noi eravamo molto fiduciosi perché avevamo incontrato tutta la città in questi mesi e ci eravamo resi conto davvero che c'era il desiderio di cambiare. Il nostro progetto nasce proprio dalla voglia di mettere a disposizione energie nuove, competenze nuove per una città che negli ultimi decenni andava via via spegnendosi per cui davvero eravamo fiduciosi che il risultato elettorale potesse premiarci. Noi ci siamo resi conto che ad Ortona sia il centro-sinistra che il centro-destra non avevano dato una buona prova di sé. Allora abbiamo deciso di creare un aggregato civico in modo tale che sopra di noi non ci fosse nessuno che potesse indicarci la via come troppo spesso è accaduto in passato a scapito della città di Ortona. Non faremo nessun tipo di apparentamento al secondo turno tranne l'unico apparentamento che per noi conta davvero che è quello con la coscienza degli ortonesi. Noi ci impegneremo a convincere tutti coloro che non ci hanno scelti al primo turno a votare per noi senza dover negoziare postazioni, assessorati con altre coalizioni per cui non ci sarà nessun tipo di apparentamento. Leo Castiglione chiederà l'apparentamento ai cittadini, porterà avanti il progetto nelle stesse modalità con cui lo ha iniziato. Noi siamo stati sul territorio, abbiamo condiviso con i cittadini il programma e abbiamo ricevuto con questo risultato la delega da parte dei cittadini a realizzarlo.